I pressi necessari per l'acquisto della prima casa si fanno decollare i consumi. Ciao Serena! Il 12 maggio, quando fa poi lo spaccone, Renzi, andiamo a protestare, a contestare. Armiamoci di Fischietti, di Pernacchia e andiamo a Piazza Municipio. Basta con queste passerelle di questo spaccone. Andiamo per Napoli e per il sud, condividiamoci. Sempre a carico dei cittadini. Lo spazio hanno stato portate, ovvero! Ci sono sentati, guardate! Il Domenico! Ma vai, come volta! Guarda la scena pubblica! Tutti in realtà! Tutti in realtà! Tutti in realtà! Tutti in realtà! Ce n'è più importante! Non si manca. Di Damacchia, il nostro modello di quelle aziende che pensano a sex e certi stilizzano a pubblicamente sui casi, e che domani la photocontica, o il personale, o il scolore di Pazzechi, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.